FEDE TV, TV di comunità! In che modo il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione potrebbero entrare in contatto per migliorare la formazione dello studente? Sicuramente il metodo più diretto è quello degli stage, cioè che sono particolarmente attivi ad esempio agli istituti tecnici, cioè uno studente fa più pratica, mette in atto, mette in attivazione pratica ciò che ha studiato in teoria. In determinati indirizzi e scuole, soprattutto gli istituti tecnici, vengono fatti degli stage, quindi durante il percorso scolastico gli alunni sono tenuti ad andare a lavorare per un certo periodo. Sicuramente andrebbero migliorati nel senso che lo studente deve essere consapevole di ciò che va a fare e di quanto è importante. Finisce il mondo dell'istruzione come un grandissimo ufficio collocamento, per cui io studio delle cose che farò poi da grande e basta. Non è questa la concezione che va data di scuola, non è questa la concezione che va data di istruzione e di formazione. Grazie. Grazie.